11. La 11? La 11. Oh buon cielo! Cosa? No, dicevo, oh buon cielo, era un'esplamazione. Musica! Quale gruppo musicale italiano ha vinto l'Eurovision Song Contest a Rotterdam nel 2021? Guardi me! Quale gruppo italiano? Quale gruppo italiano ha vinto l'Eurovision Song Contest a Rotterdam nel 2021? Il volo! Eh? Il volo! Il volo! No, i Maneskin! E in zona Cesarini, il futuro del popolo italiano è un futuro tamarro! L'eleganza che vi contraddistingue vi farà ingoiare questo messo rosco! ... L'heil onore! Grazie a tutti